eh no c'è in giro gente perché io ho fermato con il cane e tutti gli altri eh quindi finietta sopra dove ci fermiamo dove andarla a tagliare no qua non c'è niente salta su qua eh bravo se vai in mezzo abbiamo parlato troppo presto se vai in mezzo si ma se stai di là non c'è niente basta gli altri sono andati tutti di là non c'è niente 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 tutto è bravo bravo e andiamo in là a cercarli tanto non arrivano su da là dopo torniamo indietro da qua facciamo tutta la finita ci troviamo già di là ve li spazzati qui e tranquilli tutti hai aperto eh è un passiente e che cacchio figa apri andiamo a recuperarli là e vediamo se ci arriviamo perchè non so se ci passa una volta passavamo quando l'altro zio c'era è piondato quindi non lo so vediamo cosa troviamo lì